WURT è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi di fissaggio nei settori automotive, artigianato e industria. Per superarci, manca solo di trasformare noi stessi in viti. In Italia abbiamo oltre 240.000 clienti. Perché così tante persone si affidano a WURT? Dipende non solo dall'altissima qualità dei prodotti e dall'affidabilità del marchio, ma soprattutto dal tipo di servizio che solo WURT offre! Gli studi più aggiornati dimostrano che con un'azienda di medie dimensioni, un singolo ordine di prodotti di classe C, ovvero prodotti ausiliari alla produzione con basso valore unitario e alta incidenza numerica, come ad esempio la viteria, costa mediamente 100 euro. Questa cifra comprende i costi di tutti i processi e le figure aziendali coinvolte. Grazie al servizio WURT questo costo viene abbattuto. I nostri tecnici sono in grado di ottimizzare i processi di ogni tipo di cliente, dal piccolo artigiano alla media, grande azienda. E ottimizzare significa ridurre gli sprechi di personale, tempo, denaro. Vengono infatti valutati lo specifico fabbisogno del cliente e la frequenza di approvvigionamento prodotto per prodotto, garantendo un servizio ad hoc in grado di assicurare sempre una scorta minima disponibile, in modo tale da non rischiare mai blocchi di stock. Come facciamo? Parliamo di scaffalature, outsourcing e relativi strumenti. Ad esempio... Questo è Orsi System, la scaffalatura leggera, componibile e personalizzabile. I consulenti WURT progetteranno una scaffalatura personalizzata alle vostre esigenze, in modo da gestire il materiale di consumo e tenerlo in perfetto ordine. Grazie al packaging standardizzato ad hoc per le scaffalature e le etichette, che contengono tutte le informazioni, compreso il barcode, è possibile capire quando è il momento giusto per ordinare, senza più rischi di rimanere senza approvvigionamento e fermare il lavoro. Il tutto ovviamente contenendo il valore magazzino nel range stabilito con il cliente. E poi c'è Orsi Scan. Orsi Scan è un piccolo scanner che fa tutto da solo, legge il barcode del prodotto da ordinare dalla confezione o dall'etichetta sullo scaffale. Basta poi collegarlo al computer per completare o modificare l'ordine e trasmetterlo in modo automatico e sicuro senza rischi di errori di trascrizione dei codici. E non è tutto! Oltre all'Orsi, per aziende più grandi con un fabbisogno di prodotti medio-alto di classe C, Burt propone Kanban Light. È una scaffalatura di medie dimensioni e modulabile per contenere anche alcune centinaia di prodotti in vaschette di dimensioni variabili, a seconda dell'effettivo fabbisogno del prodotto, disposte 2 a 2. Allo svuotamento di una vaschetta, l'operatore provvederà a riordinare la merce grazie alla lettura con Orsi Scan del barcode sulle singole etichette. Kanban, infine, è la scaffalatura componibile pesante che con il sofisticato sistema gestionale che la supporta, risponde alle esigenze di grandi aziende ad elevato fabbisogno di prodotti da organizzare anche su più linee di produzione. Con la gestione Kanban del magazzino, attraverso il sistema CPSRFID di trasmissione dati in radiofrequenza, sarà la vaschetta vuota stessa, una volta tolta dallo scaffale, a comunicare a VIRT tramite un traspondere che ne legge l'etichetta l'esigenza di un riordino del prodotto. Grazie ai sistemi di scaffalature e alle soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto sviluppate ad hoc per il cliente, tutti i processi, dalla valutazione del fabbisogno agli ordini alla gestione della documentazione come fatture e dbt, avvengono in formato elettronico, imitando l'intervento degli operatori allo stretto necessario. Questo è il servizio unico che VIRT offre al cliente, una partnership in grado di ottimizzare al meglio la logistica e il sistema di approvvigionamento del magazzino. Ma VIRT è un mondo che copre tutte le esigenze possibili. Per razionalizzare la consegna agli operatori dei materiali in ottica Lean c'è Orsimat, il distributore automatico ideale nelle sue diverse versioni per distribuire attrezzatura manuale, prodotti chimici, ma soprattutto dpi, garantendo il pieno rispetto della normativa della sicurezza sul posto di lavoro, grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni di prelievo. E poi abbiamo Orsimobile, per allestire una stazione di lavoro studiata nei minimi particolari, nei furgoni. Orsi Container, con cui i nostri esperti allestiscono una soluzione logistica personalizzata per i grossi cantieri. Orsi Flit, per il noleggio a lungo termine del parco utensili VIRT e altro ancora. VIRT, insomma, il nostro segreto? Una partnership con il cliente che permette di risparmiare tempo e denaro. Il nostro motto? Ad ogni cliente la sua VIRT. Grazie. Grazie.